buon pomeriggio anzi buona sera ci sono notizie che ovviamente i media nazionali mainstream non trattano ma alcuni quotidiani lo fanno in questo caso il giornale d'italia ha tirato fuori questa notiziola che che di fatto è confermata verrebbe anche confermata in pratica da quello che sta facendo Zelensky ovvero questo gironzolare tra l'argentina poi andare negli stati uniti andare al congresso americano fare i suoi giretti per andare a fare tra virgolette la raccattare qualche soldino qualche soldino qualche arma soprattutto perché sta dicendo che se non dovesse raccogliere le armi e ulteriori soldi e fondi dalla comunità europea dagli stati uniti questa guerra sarebbe persa attendo voi michela ciao jody jody mantovani mitico miti ciao sergio rosanna buonasera vedo i primi collegati vediamo sentata arrivata the notificance the notificance è arrivata non è arrivata la notifichina vediamo ciao a tutti buonasera questa notizia si preoccuperà una parte dei cittadini e mentre altri cosa bolle in pentola calo clemente bolle che Zelensky è a rischio quasi qua c'è chi dice bye bye Zelensky l'occidente lavora la sua rimozione l'occidente addirittura chi salirebbe al suo posto siete curiosi ovviamente sì ovviamente sì e anche io sono curioso di vedere questo articolo di legione insieme a voi attendo solo qualche istante ci sono grossissimi problemi sulla piattaforma intanto di meta mi è stato confermato non posso dire niente di preciso ma e mi è stato confermato che c'è qualche problemina problemi non è l'ultimi negli ultimi giorni sulla piattaforma di meta ciao francesco ciao ciao every every buonasera sergio a me è arrivata arrivata la notifica incredibile sono quasi sono potrei essere quasi commosso quasi commosso attendiamo proprio qualche altro istante dopodiché vi darò questa notiziona poi più tardi ore 19 30 avremo tutte le notizie della giornata del paragone punto it ce ne sono alcune clamorose no che riguardano le nostre tasche in particolare riguardano le nostre tasche vediamo se riesco a collegarmi intanto per verificare effettivamente che ci sia gente collegata perché il software non mi fa vedere chi c'è collegato vedo qualche vostro messaggio tipo nicodemo che mi ha scritto x ciao michela buonasera a me basta che smettano di combattere vinca migliore basta hanno rotto il razzo hanno rotto il razzo assolutamente hanno rotto il razzo e concordo con te allora andiamo a vedere se è arrivata intanto sui collegati come come confermato la piattaforma non sta andando è 87 collegati mi viene voglia di di dire abbandono questa piattaforma e vado su e vado su una piattaforma più scrausa che c'è più brutta che c'è pur di non star qua ok siamo collegati allora andiamo a vedere quello che quello che di quello che dice il collega gabriele l'amico gabriele angelini che è andato giù diretto nelle alte sfere nelle alte sfere parliamo delle alte alte sfere e la voce si fa sempre più insistente amici e amiche l'occidente stufo di volodomir zelensky e ci sta lavorando la sua sostituzione intanto ditemi cosa ne pensate sareste tristi qualcuno di voi piangerebbe sareste felici qualcuno di voi riderebbe sono curioso di vedere il vostro pensiero la conferma comunque di questa cosa qualora ce ne fosse ancora bisogno e che della sovranità dell'ucraina interessa pochi è che la partita non è più per la difesa dell'ucraina ma di altro della nato e del blocco usa e appunto di una certa cultura occidentale chiuso la parentesi attenzione la sovranità di chiev è andata a farsi benedire da un pezzo e la guerra è apparsa fin dall'inizio una guerra nato russia e tutti lo sappiamo vi ricordate quello che si diceva da fonti legate ai servizi segreti di chi di vladimir putin come riporta il giornale d'italia quindi ecco la fonte emerge che la poltrona di zeleschi traballa e che qualcuno tra i servizi segreti occidentali mi 6 in primis aveva pensato addirittura ad un golpe delle forze armate per risolvere la questione ed è questo il vero motivo per la quale la controoffensiva di chiev si è arenata dovevano fare una controoffensiva incredibile in verità nulla si è fatto andiamo a capire di più ma chi verrebbe messo a fare a far la voce dell'occidente al suo posto è questo che vorremmo capire chi metterebbero al posto di volodomir zeleschi no la sostituzione di zeleschi chi è al suo posto vorremmo saperlo e stando sempre a retroscena del giornale d'italia la conferma di questa indiscrezione arriva dai servizi segreti russi che stanno ricevendo informazioni affidabili che alti funzionari di importanti paesi occidentali ovviamente occidentali stanno discutendo la necessità di sostituire l'attuale presidente ucraino volodomir zeleschi come detto dalle responsabili dell'intelligence per l'estero sergei e nira skin in una dichiarata di una dichiarazione una vera dichiarazione citata dall'agenzia tasse quindi una dichiarazione dell'agenzia tasse secondo il capo dei servizi segreti russi per l'estero tra i candidati potrebbero sostituire il signor zeleschi figurano il capo delle forze armate ucraine valeri zulusini il capo era più facile zeleschi il capo dei servizi segreti militari krill budanov il capo dell'ufficio presidenziale andrei jermak l'ex consigliere presidenziale alexi arestovic e il sindaco di kiev vitali chitlinsco chitlinsco attenzione perché sembra tutto vero amici sembra tutto vero io a questo punto però mi chiedo una cosa cosa ne pensate voi secondo voi sarebbe giusto abbandonare così dopo tutto quello che ha fatto il signor zeleschi io me lo chiedo mandiamo la meloni mi dice luciano e stanu e staffanutti diciamo che tutte le armi che abbia mandato intanto gli ultimi dati incredibili stanno dicendo amici questo è fondamentale perché anche gli stati uniti hanno i loro problemi che il signor biden perderebbe perderebbe al cento per cento oggi se dovesse andare in gara elettorale contro il signor trump parlando di una differenza di 4 5 6 punti percentuali addirittura si parla del 47 per cento per trump e del 42 43 per cento per biden quindi biden amici biden ai 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 se si andasse al voto oggi biden perderebbe sonoramente la signor trump a questo punto vi pongo due domande la prima domanda se dovessero rimuovere zeleschi se vi dispiace o meno e qua è la prima domanda si è arricchito serie qua dicono si è arricchito abbastanza e si vede vabbè quindi prima cosa se venisse cacciato zeleschi vi dispiacerebbe sì o no ogni ogni dubbio è lecita ogni risposta è lecita seconda domanda se biden dovesse perdere clamorosamente da donald trap vi dispiacerebbe quindi due sondaggine al volo ai quali vi piacerebbe vedere una vostra risposta vivo il nostro hobby dice luciano luciano ciao luciano e staffanutti e quindi amici amiche questa era una piccola anticipazione aumentazione di questa sera ci sentiremo alle ore a parte le battute 19 30 per delle notizie molto interessanti vi do un anteprima delle notizie che discuteremo questa sera insieme alle 19 30 canon era in bolletta come evitare la debito siete curiosi ve lo dirò stasera ecco quanto ci costa la quinta dose lo spreco enorme nessuno si vaccina più video dei numeri imbarazzanti ma lo vedremo alle 19 30 un'altra cosa la stangata delle rc auto lo sapete che andremo a pagare in circa 500 euro in più vi dirò chi dovrà pagare 500 euro in più all'anno di rc auto altra notiziona che discuteremo le 19 30 canonate speronamenti si apre un altro fronte della guerra vi dirò dove perché come parleremo anche dell'attacco di repubblica al generale vannacci parleremo delle cripto valute come sta come funziona questa truffa che stanno facendo state attenti parleremo dello scandalo degli ospedali tipo quelli che prendono fuoco stendiamo un velo piettoso e del business amici di chi di quelli di quei buonisti tipo il signor zanne che alla fine si scopre che facevano le manifestazioni gay pride ma perché dietro c'era l'interesse bene amici e amiche adesso vi saluto ci rivedremo ore 19 30 come avete sentito notizie molto molto interessanti detto questo vi saluto vi voglio bene buona serata buon aperitivo ci sentiamo tra un'ora circa un'ora e venti ciao un'ora e dieci ciao a tutti buona serata